Power It! Allenamento completo ad alta intensità. Faremo tre blocchi di lavoro total body a difficoltà crescente. Iniziamo! Ok, iniziamo. Circonduzione in avanti, movimento orario, testa dritta, movimento ampio. Iniziamo da subito a respirare naso e bocca. 5, 4, 3, 2, 1, sempre circonduzione braccia, movimento anti-orario, quindi andiamo a fare un movimento ampio dietro, testa sempre dritta, non esagerare con la velocità, il movimento è lento, controllato, scagliamo bene tutta la parte alta e poi la parte bassa, prima di iniziare questo super allenamento. 3, 2, 1, apertura braccia indietro, apro un braccio e ruoto il tronco dallo stesso lato, alterno le braccia, prima braccio destro e ruoto a destra, poi braccio sinistro e ruoto a sinistra, senza esagerare. 5, 4, 3, 2, 1, skip incrociato, gomito ginocchio, vai! Skip incrociato e gomito ginocchio, skip incrociato e gomito ginocchio, gomito destro, ginocchio sinistro e viceversa, vai! 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 Respiro! 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Calciata ai glutei, vai! I talloni salgono ai glutei, gambe leggermente divaricate e alterno lato destro e sinistro, destro sinistro. Esercizio successivo, skip alto più rotazione oraria, 3, 2, 1, cambio! Skip alto, rotazione oraria, separo bene i due movimenti, testa dritta, scaldiamo sia la parte alta che la parte bassa del corpo, ancora 10 secondi e cambiamo la rotazione in anti-oraria, mantenendo lo skip. 3, 2, 1, cambio! Rotazione anti-oraria, manteniamo il lavoro sulle gambe dello skip, skip a destra e a sinistra e rotazione anti-oraria, respiro, coordino i movimenti, 5, 4, 3, 2, 1, torsione gomito ginocchio alternato, vai! Alterno, gomito e ginocchio, pam, 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 ginocchio destro, gomito sinistro e viceversa, butto fuori l'aria in chiusura, respiro, non mi fermo, cerco di avvicinare il più possibile gomito e ginocchio opposti, ancora 10 secondi, esercizio successivo, mezzo squat veloce, 5, 4, 3, 2, 1, mezzo squat veloce, uno squat veloce appena accennato, mezzo squat, allargo le gambe, allargo leggermente le punte, testa dritta, lavoro sulle braccia, respirazione attiva, ancora 15 secondi, scaldiamo bene tutta la parte bassa, gluteo, gambe, quadricipio femorale, ginocchio, esercizio successivo, step touch, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Step touch, mi sposto a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, respiro, naso, bocca, sempre respirazione continua, lavoro sulle braccia, esercizio successivo, 3 ginocchio su più 3 pugni, 3, 2, 1, guarda bene il video, ginocchio, 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 1, 2, 3, pugno, solo sulla gamba destra, vai! 1, 2, 3, pugno, ginocchio, 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 1, 2, 3, vai! Ginocchio, 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 separa bene i due movimenti, sono 3 pugni più 3 ginocchio su, ancora 1, 2, 3, 1, 2, 3, ancora 3, 2, 1 e passo in jumping jack, vai! Velocità, reattività, bruciamo calorie, respiriamo, salto sull'avampiede, testa dritta, movimento ampio delle braccia, vai! Pam, 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 vamos! Mantengo il ritmo, respiro, non rallentare, fino alla fine, esercizio successivo, step touch, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, step touch, mi sposto a destra e a sinistra, approfitto per respirare, inspiro sempre con il naso ed inspiro con la bocca, sempre respirazione, 10 secondi, 3 ginocchio su e 3 pugni, dobbiamo lavorare sull'altra gamba, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Ginocchio, 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 1, 2, 3, pugno, ginocchio, 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 1, 2, 3, pugno, siamo sulla gamba sinistra, solo la gamba sinistra, prima abbiamo fatto la destra, adesso facciamo la sinistra, pam, pam, 1, 2, 3, pugno, 1, 2, 3, ginocchio, 1, 2, 3, pugno, 1, 2, 3, ginocchio, solo gamba sinistra, ancora, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, pugno incrociato, vai, pugno a destra e pugno a sinistra, pugno a destra e pugno a sinistra, addome contratto, lavoro anche sulle gambe, spostamento e pugno, spostamento e pugno, respiro, butto fuori l'aria nel pugno, lavoro sulle gambe, mantengo il ritmo, ancora 10 secondi e ritorniamo in step touch, vamos! 5, 4, 3, 2, 1, cambio, step touch, ci spostiamo a destra e sinistra, respira, respira, mantieni sempre la respirazione attiva su ogni esercizio, non rimanere mai in apnea, esercizio successivo, squat più pugno incrociato, 5, 4, 3, 2, 1, vai, squat e pugno incrociato, squat e pugno incrociato, scendo pugno da una parte, scendo pugno dall'altra, i talloni sono ben appoggiati a terra quando esegui lo squat, le ginocchia non vanno in chiusura, ma seguono la linea della gamba, sia quando sali, sia quando scendi, ancora 10 secondi, non ti fermare, esercizio successivo, pugni veloci frontali tra 5, 4, 3, 2, 1, vai, pugni frontali, pam 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 pam, pugni frontali veloce, posizione di mezzo squat, addome contratto, testa dritta, vai, resisti, velocità, lavoriamo sulle braccia, sulle spalle, pam 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 pam, ancora, ancora, vamos, non ti fermare, addome contratto, resisti, resisti, vai, pam 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 e 5 e 4 e 3 e 2 e 1, vamos, step touch, respiro, sempre respirazione, inspiro col naso ed espiro con la bocca, sempre respirazione attiva, ossigeniamo il nostro corpo, 10 secondi e passiamo in calciata ai glutei, 5, 4, 3, 2, 1, calciata ai glutei, vai, allargo le gambe, movimento di braccia e gambe, avvicino i piedi ai glutei, vai, mantengo il ritmo, respiro, vai, vai, attenzione, esercizio successivo squat più salto più doppio calcio, ancora 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, vai, squat, salto e doppio calcio, squat, salto e doppio calcio, squat preciso e jump esplosivo, controlla bene la discesa in squat, le ginocchia non vanno in chiusura, mi raccomando, vamos, vai, jump, 1, 2, jump, 1, 2, ancora, 3, 2, 1, cambio, step touch, ci spostiamo a destra e sinistra, respiriamo nello step touch, sempre respirazione continua, ci prepariamo per torsione gomito ginocchio alternato, 5, 4, 3, 2, 1, vai, torsione gomito ginocchio, torsione gomito ginocchio, attiviamo la zona addominali da in piedi con questo esercizio, andiamo a incrociare gomito destro, ginocchio sinistro e viceversa, buttiamo fuori l'aria in fase di chiusura, respirazione, vai, 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 esercizio successivo camminata plank più gomito ginocchio, 5, 4, 3, 2, 1, vai, camminata plank e gomito ginocchio, separo bene i due movimenti, appoggio bene le mani a terra, scendo, camminata plank, blocco l'addome, ginocchio al gomito e ginocchio al gomito, ancora, vado giù, camminata in plank, blocco, ginocchio al gomito, ginocchio al gomito e risalgo, esercizio successivo, plank, apro, chiudo, più gomito ginocchio, 2, 1, rimango giù, apro, apro, chiudo, chiudo, ginocchio al gomito, ancora, apro, apro, chiudo, chiudo, ginocchio al gomito, alternato destra e sinistra, pam, 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 ginocchio al gomito, ginocchio al gomito, apro, chiudo, ginocchio al gomito, ginocchio al gomito, mantieni l'addome contratto 10 secondi ancora le braccia in linea con le spalle testa dritta e respira 5 4 3 2 1 recupero attivo 15 secondi di recupero attivo prendiamo il nostro tappetino camminata plank più discesa al gomito tra 3 2 1 vai discesa in plank blocco scendo gomiti a terra e risalgo camminata su plank scendo gomiti a terra e risalgo respiro addome contratto movimento è controllato ancora scendo e risalgo vai 5 4 3 2 1 plank più sollevamento braccio alternato sollevo prima il braccio destro e poi il braccio sinistro mantenendo la posizione di plank in isometria addome contratto glutei contratti le mani sono in linea con le spalle testa dritta sollevamento del braccio destro e del braccio sinistro mantengo il corpo in linea respiro ancora 5 4 3 2 1 recupero attivo respiriamo esercizio successivo corsa sul posto possiamo spostare in avanti il nostro tappetino 5 4 3 2 1 vai corsettina sul posto manteniamo sempre il ritmo non ci fermiamo respiriamo sempre su ogni esercizio troviamo la respirazione giusta naso bocca naso bocca 15 secondi ripartiamo con l'esercizio successivo a fondo indietro incrociato 5 4 3 2 1 vai a fondo indietro incrociato a destra a fondo indietro incrociato a sinistra il ginocchio in linea con il tallone la schiena è dritta è importante utilizzare le braccia su questo movimento per migliorare l'equilibrio e la tecnica ancora 10 secondi e ritorniamo in step touch attiviamo gambe e glutei 3 2 1 cambio step touch mi sposto a destra e sinistra respiro respiro sempre respirazione esercizio successivo 3 jumping jacks più a fondo indietro su una gamba 5 4 3 2 1 vai 3 jumping jack e a fondo indietro solo con la sinistra lavoriamo solo con la sinistra adesso vai a fondo indietro sinistra 1 2 3 a fondo indietro con la sinistra 3 jumping jack 1 2 3 e a fondo indietro sinistra 3 jumping jack 1 2 3 e a fondo indietro respiro respiro non mi fermo non rallentiamo ancora 20 secondi mi sposto a destra e a sinistra a destra e a sinistra non ti fermare ritorniamo con i 3 jumping jacks più a fondo indietro su una gamba andiamo a lavorare sull'altra gamba 5 4 3 2 1 1 2 3 e a fondo indietro destra vai 1 2 3 a fondo indietro destra ancora 1 2 3 e a fondo indietro ancora 3 jumping jack 1 2 3 e a fondo indietro destra separo bene due movimenti respiro non mi fermo veloci i jumping jacks lento la fondo indietro 3 2 1 calciata i glutei vai allargo le gambe calciata i glutei lavoro sulle braccia testa dritta respiro quasi 100 calorie vamos respirazione sempre testa dritta e postura durante gli esercizi esercizio successivo squat più a fondo indietro tra 5 4 3 2 1 squat più a fondo indietro ancora squat e a fondo indietro la a fondo indietro è alternato tra la gamba destra e la gamba sinistra tra una fondo indietro c'è uno squat completo squat a fondo indietro squat a fondo indietro importantissimo il lavoro delle braccia per l'equilibrio e l'esecuzione della tecnica del movimento testa dritta 3 2 1 cambio corsa sul posto non ci fermiamo rimaniamo sempre reattivi respirazione naso e bocca 20 secondi faccio lavorare sempre le braccia su ogni esercizio anche in quelli per le gambe per controllare l'equilibrio e la tecnica 5 4 3 2 1 recuperativo respiriamo riprendiamo fiato mi raccomando sempre respirazione durante gli esercizi ripartiamo con la corsa sul posto tra 5 4 3 2 1 vai corsettina sul posto ripartiamo ci manteniamo sempre reattivi non ci fermiamo 10 secondi abbiamo lo squat jump buttiamo fuori tutte le energie 3 2 1 vai squat jump muleggia bene sulle ginocchia aiutati con le braccia nel salto esplosivo è un ottimo esercizio per gambe glutei ma devi resistere fino alla fine pam 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 molleggia sulle gambe resisti adesso inizia a percepire il bruciore non rallentare pam ancora pam ancora non ti fermare un salto al secondo vamos 3 2 1 calciata ai glutei ottimo lavoro scarichiamo un pochino le gambe con la calciata ai glutei respiriamo 10 secondi ripartiamo con 4 sforbiciate ginocchio su 5 4 3 2 1 vai 4 sforbiciate e ginocchio su il ginocchio su è solo sulla gamba sinistra sincronizza bene il movimento 1 2 3 4 ginocchio sinistro 1 2 3 4 ginocchio sinistro respira testa dritta pam 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 ginocchio su pam 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 ginocchio su vai esercizio successivo camminata laterale più ginocchio su 3 2 1 vai camminata laterale più ginocchio su camminata laterale più ginocchio su la camminata laterale doppia ginocchio su alternato prima a destra e poi a sinistra l'esercizio successivo sono le quattro sforbiciate più ginocchio su dall'altra parte 3 2 1 vai quattro sforbiciate e ginocchio su lavoriamo ora solo sulla destra quindi ginocchio su e solo sulla gamba destra pam 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 ginocchio su pam 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 ginocchio su respiro testa dritta lavoro bene sulle braccia sincronizzo il movimento ancora 10 secondi fino alla fine non ti fermare 5 4 3 2 1 cambio vai calciata saltellata respiro facciamo una bella calciata saltellata pam 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 i taloni salgono ai glutei 5 4 3 2 1 cambio squat jacks allargo bene le gambe vado giù in squat mi raccomando un braccio tocca terra l'altro braccio è teso dietro per tutelare la schiena schiena dritta quando scendi mi raccomando braccio in avanti e braccio dietro per tutelare la schiena pam e vado giù pam e vado giù ancora 5 4 3 2 1 recupero attivo 15 secondi di recupero attivo respiro siamo arrivati già a 124 calorie vamos ottimo lavoro scendiamo a terra per il plank in movimento 3 2 1 vai plank in movimento braccia in linea con le spalle alterno il movimento del ginocchio al petto destra sinistra destra sinistra vai ginocchio che sale al petto addome contratto testa dritta corpo in linea 5 4 3 2 1 plank piede alla mano alternato vai e porto il piede alla mano piede destro alla mano destra piede sinistro alla mano sinistra mantengo il ritmo addome contratto respiro le braccia devono essere sempre in linea con le spalle testa dritta ancora 10 secondi vai vai 5 4 3 2 1 recupero attivo recuperiamo respiriamo ottimo lavoro fino a lavoro fino a qua 10 secondi partiamo ripartiamo con il plank in isometria 5 4 3 2 1 posizione del plank in isometria braccia in linea con le spalle addome contratto glutei contratti gamba attesa mantengo il corpo in linea respiro ed attiviamo addome lombari 3 2 1 push up ginocchio a terra appoggio le ginocchio a terra mani laterali al petto scendo e salgo in push up testa dritta respiro addome 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 contratto non incurvare la schiena lavora sulle braccia attiviamo petto i tricipiti vai ancora ancora 5 4 3 2 1 recupero attivo recuperiamo respiriamo sciogliamo ci alziamo in piedi scroll intermedio apro chiudo tra 5 4 3 2 1 vai appoggio le braccia scendo blocco apro e chiudo e risalgo ancora scendo in plank blocco apro e chiudo con le gambe e risalgo respiro separo bene i due movimenti vai scendo in plank vai spiro non mi fermo esercizio successivo calciata saltellata ancora 10 10 secondi 5 4 3 2 1 cambio calciata saltellata vai calciata saltellata respiro non mi fermo resiste ancora esercizio successivo due jumping jacks più salting plank 3 2 1 vai 1 2 jumping jacks vado giù salto in plank e ritorno 1 2 vado giù plank blocco l'addome ritorno 1 2 giù in plank blocco e ritorno ancora 2 jumping jacks e scendo in plank blocco e ritorno vai pam pam giù plank blocco e ritorno quando scendi in plank il corpo deve rimanere in linea quindi addome contratto 5 4 3 2 1 v step touch step touch disegnando una v a terra guarda bene il video sincronizza il movimento è uno step touch disegnando una v a terra lavora sulle braccia respira 5 4 3 2 1 vai a fondo indietro 1 2 3 ginocchio su lavoriamo solo sulla gamba sinistra guarda bene il video a fondo indietro 1 2 3 ginocchio su a fondo indietro 1 2 3 ginocchio su solo gamba sinistra è importante il lavoro delle braccia baricentro in avanti respiro vai a fondo indietro salgo 1 2 3 ginocchio su la gamba frontale sempre leggermente piegata vai 5 4 3 2 1 step touch ci spostiamo a destra e sinistra respiriamo sciogliamo un attimo ottimo lavoro 10 secondi a fondo indietro più 3 ginocchio su andiamo a lavorare sull'altra gamba ok 3 2 1 vai a fondo salgo 1 2 3 e ancora solo gamba destra a fondo indietro gamba destra sempre gamba destra 3 ginocchio su vai a fondo indietro sali 1 2 3 ginocchio su a fondo indietro 1 2 3 ginocchio su ancora sono due esercizi in uno la fondo indietro con la gamba destra 3 ginocchio su sempre con la gamba destra sincronizza il movimento delle braccia testa dritta vai ancora non ti fermare 5 4 3 2 1 a step vai movimento di gambe andiamo ad aprire dietro e a chiudere in avanti apro apro chiudo chiudo due passi aperti dietro due passi chiusi in avanti 5 4 3 2 1 salto in plank più doppio squat vamos salgo 1 2 doppio squat e riscendo salto plank risalgo uno squat due squat continua salto in plank blocco salgo uno squat secondo squat respiro mani ben appoggiate a terra quando scendo vado giù plank blocco salgo 2 squat e ancora vai 5 4 3 2 1 plank in corsa andiamo giù a terra appoggio bene le braccia addome contratto inizio con la corsa pam 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 respira braccia in linea con le spalle respira per non andare in affanno 5 4 3 2 1 recupero attivo respiriamo ottimo lavoro riprendiamo il nostro tappetino ginocchio al petto iniziamo il lavoro di scarico 3 2 1 ginocchio al petto scelgo con quale ginocchio iniziare schiena aderente a terra testa dritta respirazione continua una gamba tesa l'altro ginocchio vicino al petto lo vado abbracciare 3 2 1 cambio piano piano allungo la gamba ginocchio al petto senza forzare lo vado a prendere mantengo la posizione respiro ancora 10 secondi 5 4 3 2 1 recupero attivo ci prepariamo per la rotazione dell'anca da distesi gambe accavallate 3 1 vai accavalo le gambe ruoto il busto da un lato mentre le gambe ruotano dall'altro appoggio il ginocchio a terra e respiro non forzare il movimento mantieni la posizione respira 3 2 1 stesso movimento dall'altro lato il busto ruota da un lato mentre le gambe ruotano dall'altro non forzare il movimento respira mantieni la posizione di stretching 3 2 1 recupero attivo ritorno esercizio successivo stretching interno coscia da terra 3 2 1 gamba sinistra tesa lateralmente solevo la punta del piede e se riesco tocco la punta allunghiamo un po' l'interno coscia sinistro senza forzare la posizione di stretching 3 2 1 cambio mi sposto lentamente dall'altra parte gamba destra tesa lateralmente solevo la punta del piede destro e se riesco tocco la punta allunghiamo l'interno coscia destro posso toccare la punta o tenere le mani in avanti 5 4 3 2 1 posizione a v schiena dritta glutei che spingono verso l'alto testa dritta rilassata respirazione mantengo la respirazione controllata 3 2 1 cambio andiamo a fare un po' di respirazione da in piedi inspiro col naso espiro con la bocca ancora inspiro col naso espiro con la bocca vai 5 4 3 2 1 e ci siamo il tuo allenamento è finito complimenti vamos 191 bene bene bello che io aint